Proccio alla partita anche nella gestione delle tensioni, l'emozione spogliatoio, è meglio arrivare favoriti o sfavoriti a una partita particolare come il derby? Allora, a volte quelli che dicono che ora sei favorito sono quelli che hanno fatto i tweet che Geko per fare gol andrebbe tolta la porta da fondo campo o che Emerson non lo considerano dentro i 20 calciatori della rosa o che Juan Jesus è venuto qui perché era un avanzo o che per cui c'è da vedere chi lo dice o che Fazio perché è stato tweet e rimangono tweet, cioè quello che si scrive e rimane e non va via.